Un sistema nuovo di mettersi in comunicazione per includere e agevolare il più possibile in situazioni di emergenza le persone con disabilità. Si chiama Io mi abilito ed è il progetto presentato a Palazzo Rosso ad Alessandria con l'intento di declinare in modo concreto il motto Aiutare ad aiutarsi attraverso una serie di attori che coinvolgano il cittadino disabile. Un progetto importante che prevede in aggiunta a completamento del piano di protezione civile che è in fase di aggiornamento una possibilità importante per tutte le persone portatrici di disabilità di qualunque genere tipo S siano di automapparsi quindi di comunicare alla servizio di protezione civile quella che è la loro disabilità e dove vivono sul territorio di Alessandria in modo tale che in caso di qualunque emergenza la protezione civile che deve intervenire in assoluta rapidità possa sapere di che disabilità si tratta e dove vive questa persona che la porta. L'invito da parte del gruppo della protezione civile comunale di Alessandria è di rivolgersi alla sede centrale di via Fadi Bruno 70 aperta il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.00. Sarà necessario compilare solo un modulo per essere inseriti in un percorso che coinvolgerà anche il caregiver della persona disabile ci si può iscrivere anche via mail. Il mio abilito nasce proprio da una sensibilità che è nata all'interno del gruppo nel pensare alle persone che hanno più difficoltà quindi persone con disabilità e nei momenti di emergenza, nei momenti di pericolo si trovano ad affrontare un problema in più rispetto al cittadino normodotato perché chiaramente ha la difficoltà a raggiungere i vari punti di ritrovo, a conoscere e a sapere le cose quindi come gruppo comunale abbiamo deciso di proporre al comune che chiaramente ha accolto molto volentieri e se ne è fatto anzi capofila nel senso che lo sta pubblicizzando e lo vuole portare avanti proprio l'idea di creare un'automappatura cosa vuol dire? Chiediamo, non siamo noi a cercare le persone con disabilità ma vogliamo che siano gli stessi disabili a rendersi in un'ottica di autoprotezione attivi in questo procedimento.